Eccoli, immortalati dalle immagini delle fototrappole, mentre scaricano sacchi di rifiuti di ogni tipo dentro e fuori i cassonetti della dogana di Treviso, destinati esclusivamente alla raccolta dell'immondizia degli autotrasportatori che qui sostano. Dopo mesi di indagini, gli uomini della Vigilanza Ambientale del Consorzio Priula, in collaborazione con i carabinieri forestali di Treviso, sono riusciti a risalire a otto eco furbi responsabili appunto dell'illecito smaltimento. Si tratta di sei utenze domestiche, quindi famiglie con regolare contratto dei rifiuti e due aziende del settore ristorazione, che pensavano così di risparmiare sulla bolletta. L'indagine è partita cinque mesi fa dalla segnalazione di alcuni cittadini. È frutto delle segnalazioni proprio di cittadini che hanno visto che c'erano questi abbandoni vicino a Cassonetti, peraltro, e da lì è partita un'indagine e con anche sistemi di videosorveglianza siamo riusciti a individuare anche i soggetti che hanno abbandonato. Per tutti ora scatteranno le sanzioni. Nel caso delle utenze domestiche può arrivare una sanzione fino a 600 euro, nel caso delle utenze non domestiche, in questo caso si tratta di ristoratori, le sanzioni sono molto più alti, sono di alcune migliaia di euro. I due ristoratori avevano affidato incautamente i propri rifiuti ad un privato che proponeva un servizio di raccolta e smaltimento totalmente illegale. Per mesi l'uomo ha abbandonato l'immondizia indogana caricando sulla collettività i costi dello smaltimento. Oltre alla pesante sanzione che dovrà pagare, l'ecovandalo è stato denunciato ed ora dovrà rispondere dei reati ambientali commessi.